Fabio Brutti è appena iniziata la stagione del Caldiero, ti chiedo se anche per te sono giorni un po' particolari, per te che sei partito veramente dal basso e non è un modo di dire con questa squadra adesso, averla portata nei professionisti ci se ne rende un po' conto in questo momento? Guarda ti dico è un'emozione continua, pensare di vedere il calendario poi che sono uscite le squadre, pensare di giocare in Coppa contro la Virtus, sono stati due mesi intensi però culminati con venerdì un momento di gioia pazzesco, vedere una squadra pronta per la C per me è stato qualcosa di fantastico, veramente. Sei contento del gruppo che hai creato, hai confermato 13 giocatori, ci sono stati ovviamente degli ingressi, immagino che da direttore hai soppesato tante cose nella costruzione di questa squadra, puoi dirmi quali? A me piace capire quale giocatore può essere funzionale per il mio gruppo, per le persone che ho qui da tanti anni, sono felicissimo in questo momento del gruppo che si sta creando, già anche se è pochi giorni, anche questa sera li vedo armoniosi, vedo persone che stanno creando un qualcosa, sono fortunato perché ho un gruppo vecchio con ragazzi come Filiciotto, Baldani, Zerbato, che mi aiutano nell'integrare gli altri nuovi, pensiamo di aver preso ragazzi che possano essere perfetti per questo gruppo. È un gruppo che può sorprendere in alcuni dei singoli che sono arrivati o che comunque c'erano già, secondo te hai magari delle sensazioni, c'è qualcuno su cui punteresti, magari non serve dirmi il nome, però dimmi un po' se covi anche questo tipo di speranza. Sì, la covo anche perché deve essere una missione da parte del Caldiero di provare a portare in alto qualche talento, qualche giovane, sono fiducioso di avere qualche ragazzo che abbiamo portato, nuovo, o anche dei vecchi, 2004, ne abbiamo tanti ad essere dei giocatori importanti nei professionisti. Per te invece cosa significa aver raggiunto la Lega Pro? È qualcosa che non hai vissuto da giocatore da quando giocavi, adesso la vivrai da direttore. Che cosa significa? È un sogno, è un sogno, è un sogno perché comunque per chi parte dal basso, chi fa tutte le categorie direttanti, trovarsi nei professionisti ti cambia la vita, ti cambia il lavoro perché poi alla fine è un'attività completamente diversa, un impegno diverso. E' un sogno che si realizza da tanti anni a Caldiero che era inimmaginabile tempo fa. L'ultima te la faccio su quello che accadrà tra poche ore perché ci sarà una sfida addirittura contro una squadra che giocherà la Champions, il Bologna contro un direttore tra l'altro che stimi tantissimo, credo come Giovanni Sartori. Cosa ti senti di dire? Perché è un inizio davvero scopiettante. Sì, beh, diciamo che era un inizio che era impossibile immaginarlo tempo fa. Abbiamo voluto sfidare una squadra in Champions League che va a andare in Champions League come Bologna e per noi deve essere solo una grande giornata, piacevole, felice, dobbiamo provare a allenarci al meglio. Poi spero di incontrare anche Sartori perché non lo conosco di persona e per me è uno dei direttori sportivi migliori d'Europa. In bocca al lupo allora per la stagione. Crepi, grazie mille Ale. Grazie mille Ale.